È scontata, però come mai ha deciso di lasciare la Spagna per buttarsi nel campionato professionistico italiano? Perché hai chiesto di lasciare la Spagna e di dire a chi a Fuga è un'estero campionato professionista italiano? Al final io mi incontrò in una situazione in cui sì che stavo in la Serie B spagnola, però bajarono la divisione e quando ho parlato con i miei rappresentanti... sto cercando di riuscire a me e quando ho riuscire a me, mi rende cose molto più semplici per me. Una divisione competitiva. Che sì, mi piacerebbe molto perché appunto nel caso di Cine negli ultimi anni è scoppiato, quindi ha avuto il suo giocatore come grandissimo giocatore e quindi piacerebbe anche a lui seguire le sue orme e arrivare magari a giocare appunto in una prima divisione. È scontata, però come mai ha deciso di lasciare la Spagna per buttarsi nel campionato professionistico italiano? Perché hai chiesto di lasciare la Spagna e venire qui a Fuga in un'estero campionato professionista italiano? Beh, al final io me encontrò in una situazione in cui sì che stavo in la Serie B spagnola, però bajarono la divisione e io quando ho parlato con i miei rappresentanti...